Calabria News 24 in Forma in cerca di una vita migliore. Durante un controllo del territorio la Guardia di Finanza Regina ha tratto in arresto due persone per coltivazione di marijuana in località Sant'Anna di Bianco. Lo scorso fine settimana i finanzieri del gruppo di Locri hanno arrestato due persone perché sorprese a coltivare una piantagione di marijuana di vaste dimensioni nel comune di Bianco in provincia di Reggio Calabria. Nel corso dell'attività istituzionale finalizzata al monitoraggio del territorio, a rivolta al contrasto della commercializzazione illecita, in genere l'attenzione dei finanzieri è stata tirata dall'andamento sospetto di due autovetture, un pick-up e una city carri, cui conducenti erano soliti introdursi all'interno di una strada sterrata, facendo ingresso senza averne alcun titolo in un campo all'apparenza incolto. L'attività di osservazione e pedinamento ha consentito ai finanzieri di accertare che i due soggetti avevano adibito un appezzamento di terreno e illecita coltivazione di piante di marijuana occultate abilmente da folta vegetazione. L'esito dell'azione investigativa ha consentito di sequestrere oltre 500 piante di marijuana, mentre i due sono stati tratti in arresto e il Pubblico Ministero ha disposto gli arresti domiciliari. Dalla piantagione si sarebbe potuta ricavare una notevole quantità di stupefacenti che una volta immessa sul mercato avrebbe fruttato, proventi illeciti per milioni di euro. Ancora cronaca, l'attarico in provincia di Cosenza è stato appiccato un incendio da due giovani del posto incastrati dalle telecamere di videosorveglianza. Due giovani di lattarico in provincia di Cosenza sono stati indagati per incendio boschivo. In questi giorni, al termine di un'intensa attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Cosenza, i militari della stazione Carabinieri Forestari di Montalto hanno infatti notificato l'avviso di conclusioni di indagini preliminari ai due ragazzi. I fatti risalgono a una notte di agosto quando i due causarono un incendio distruggendo 3.000 metri quadri di macchia mediterranea e bosco di querce lungo la strada boscata in località Bentolilla nel comune di Lattarico. Nonostante fosse notte inoltrata, quando l'incendio è scoppiato, grazie alla segnalazione da parte della cittadinanza, nei numeri di pubblica utilità si è potuto intervenire e contenere le fiamme. La zona interessata all'incendio era già particolarmente attenzionata dai militari, i quali attraverso mirate indagini effettuate con la tecnica info-investigativa del MEF, metodo delle evidenze fisiche effettuate sul luogo dei fatti, oltre che con l'ausilio di un apparato videosorveglianza in uso all'organizzazione forestale dell'arma, hanno accertato la responsabilità diretta dei due giovani, i quali hanno appiccato il fuoco dal ciglio della strada in ben 4 distinti punti attraverso l'utilizzo di un comune accendino. Come evidenziato dai fotogrammi estrapolati dai video delle microcamere, emerso come l'innesco provocato, la rapida combustione dell'erba secca sul bordo stradale e l'accelere propagazione delle fiamme nell'area boschiva. La Calabria è la regione che ha fatto registrare l'aumento maggiore di posti per i corsi di laurea nell'ambito della professione sanitaria. A deciderlo è stato il MIUR. Si parla spesso di carenza di personale in sanità, serve dunque un numero sempre maggiore di professionalità. Proprio per questo il MIUR ha deciso di dare molte più chance alle aspiranti matricole chiamate a svolgere i test d'ingresso per le professioni sanitarie, mettendo a bando per l'anno accademico 2019-2020 ben 25.376 posti, 695 in più rispetto all'anno passato. La Calabria è la regione nella quale si registra l'aumento maggiore, ovvero più 29%, seguono la Sicilia, la provincia di Bolzano e la Lombardia, una crescita che di conseguenza riguarda anche le singole professioni come l'ocopetia più 2%, fisioterapia più 4,3% e ostetricia più 7,8%. Sono solo tre invece le professioni con il segno meno, ovvero assistente sanitario, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e tecnico audiometrista. Dunque la prospettiva è quella di avere breve professionisti formati e pronti a dare il loro contributo in un comparto che in Calabria soffre già da tempo per la carenza di personale. La speranza è che prima che queste matricole abbiano completato il loro percorso di studi le cose possono cambiare anche per ciò che concerne le assunzioni. E ora ci spostiamo a Cutro dove attraverso un'assemblea si è discusso della questione rifiuti e sulla salute del cittadino. Un'assemblea pubblica ha partecipato qui a Cutro per parlare di una serie di argomenti che riguardano non solo i rifiuti ma anche la salute. La salute principalmente, non dobbiamo dimenticare che l'Istituto Superiore della Sanità ha stabilito che la più alta percentuale di morti per tumore è a Crotone. Quindi già questo mette in evidenza l'indecenza dell'ordinanza emessa dal Presidente della Regione Oliverio che tra l'altro prende in giro Crotone e il Crotonese e anche le autorità amministrative perché lì c'è proprio una perfetta presa in giro quando dice che senza soluzione di continuità devono essere scaricati 120.000 tonnellate nella discarica di Colombra. E poi negli altri ATO, nelle altre province, addirittura in un ATO bisogna dare l'incarico al progettista per realizzarla ancora la discarica dove devono andare i rifiuti. In altra a Bibbo c'è di fare i bandi per il trasferimento in altre regioni. A Reggio Calabria quando saranno realizzate le discariche poi c'è praticamente tutto paglia mentre solo per Crotone e un po' per Cassano che ha autorizzato anche senza soluzione di continuità 30.000 tonnellate. A me non è una cosa normale. Cosa volete fare? Io penso che le proposte che sono scaturite, che sono intervenute anche altri, il WWF, il Presidente del Comitato proprio Manice, il Consigliere nostro, noi vogliamo prima di tutto un ricorso immediato come è stato uscito da questa e poi organizzare una forma di lotta nei prossimi giorni, mi sembra che c'è una volontà di vedersi. Noi abbiamo dato la disponibilità come Cutro di partecipare con i cittadini che erano presenti ed erano, mi sembrava, molto consensienti su questa forma di lotta perché giustamente qui ogni famiglia ha i suoi problemi di salute perché ultimamente si è accentuata. Enzo, un'assemblea pubblica dicevo all'ex sindaco di Cutro, Migale, partecipata, una volontà comune, quella di difendere il diritto alla vita? Sicuramente, guarda, un'assemblea veramente molto partecipata che noi a Crotone ce la sognavo, diciamo, questa sensibilità verso l'ambiente, il territorio. Di fatto il territorio crotonese sta diventando, ma già lo era, la pattumiera e purtroppo continua ad essere la pattumiera della Calabria e probabilmente anche d'Italia. E questo è inaccettabile, bisogna fermarsi, bisogna fare in modo che ci sia una soluzione a questo problema rifiuti che esiste. Questo, io l'ho detto inizialmente nel mio intervento, stiamo parlando del fatto di chiudere un recinto dopo che i buoi sono già scappati. Qui hanno già bancato a Columbra milioni di metri cubi di rifiuti e oggi ci ritroviamo a parlare di 120.000 tonnellate. Cos'è una bazzecola? No, il problema è che io temo che da qui a breve si ripresenterà il problema. Cioè, è un continuo vivere in emergenza. E questo è indollerabile, perché il nostro territorio ha bisogno sicuramente d'altro. Prevenire le dipendenze, questo è lo scopo di un progetto messo in atto dal comune di Cosenza rivolto a studenti e genitori. Ricomincia la scuola e ritornano anche diversi problemi, strettamente legati non tanto al mondo scolastico, ma ai ragazzi in età adolescenziale. E fra questi, certamente, la droga e le nuove dipendenze. Vogliono far leva sulla prevenzione a Cosenza, dove saranno messe in campo alcune azioni rivolte soprattutto ai ragazzi e alla scuola media, attraverso le quali rafforzare il legame fra istituzione e famiglia. Fra queste, il parent training. Vogliamo semplicemente promuovere il benessere psicologico, quindi esplicare quel concetto, quel diritto che ogni genitore ha, forse ognuno di noi ha, che è quello di stare meglio anche quando non si sta male. Quindi sicuramente trattare le problematiche più presenti allo stato attuale della società, che appunto sono le dipendenze comportamentali nuove e vecchie, anche il disagio giovanile in generale, la prevenzione dall'uso di sostanze psicoattive. La novità è che la scuola apre le porte ai genitori, quindi c'è questo scambio, direi, molto bello, molto utile tra gli insegnanti e lo psicologo. Finalmente i genitori trovano uno spazio di ascolto in cui possono discutere attraverso brainstorming, esercizi esperienziali, quelli che sono tutti i loro dubbi, le perplessità e tutto ciò che riguarda la loro dimensione genitoriale per chiarire e definire meglio il loro ruolo nel corso dello sviluppo psicologico e fisico dei propri figli. Franco Parisi della Croce Rossa Crotonese spiega come i migranti che puntano a raggiungere l'Europa abbiano il diritto di una vita migliore. Sentiamo. Chi parte sa da dove parte e non sa mai dove approda. Comunque loro hanno intenzione di raggiungere l'Europa, che poi l'Europa si configuri in qualche modo con Lampedusa piuttosto che con Crotone o Augusto o Palermo o Roccella, faccio un esempio, è comunque un solo punto di approdo verso quella che è invece una vita migliore all'interno di un continente migliore. Certo la situazione di Crotone la conosciamo tutti. Noi tra l'altro che viviamo nel terzo settore e ci occupiamo a 360 gradi di quelle che sono le vulnerabilità del nostro territorio, ci rendiamo conto che in effetti dal punto di vista dell'integrazione e dell'inclusione anche a livello lavorativo potrebbe essere un limite per queste persone. C'è però da dire che c'è tanta gente che in tutti questi anni ha acquisito delle professionalità, delle perizie anche attraverso quei progetti che lo stesso Ministero ha messo a disposizione che sono i progetti SPRAR e ha dato la possibilità a molti di questi migranti di farsi una vita anche su Crotone. Sono molte le esperienze che vedono immigrati nella città di Crotone che si sono integrati, addirittura hanno fatto famiglia, sposati e vivono realizzati. Quindi diciamo che ecco la speranza nel momento in cui è tale non deve avere dei limiti territoriali ma è sempre comunque un qualcosa che appartiene ad ognuno di noi e la si può vivere in qualsiasi posto del mondo. Basta solo avere la possibilità e soprattutto l'intenzione di guardare al diverso come una risorsa da cui poter apprendere nuove visioni, nuove antropologie che possono essere soltanto di aiuto alla crescita del nostro territorio. Grazie e buona serata.